Sul fronte guerra Mosca è chiaramente in difficoltà ed avverte gli USA. Se forniscono a Kiev missili a lungo raggio, lo considereremo come un coinvolgimento diretto nel conflitto di Washington. Intanto Putin avrebbe rifiutato a marzo un accordo di pace con Zelensky per perseguire i suoi propositi di invasione e annessione di larga fetta di territori ucraini e ci attesa sul vertice che Putin terrà in Uzbekistan con il presidente cinese Xi Jinping, al centro dei colloqui gli scambi commerciali, ma anche la guerra in Ucraina ed il fronte anti-occidentale. Grazie a tutti.